Tre mesi a Torino, tredicesima parte. Uno dei luoghi che amavo di più degli studi RAI era la Sartoria. Era una specie di agorà dove potrei scambiare chiacchiere su qualsiasi argomento, dalla politica al meteo, dalle ricette di cucina all'inciucio. Alla metà di ottobre mi trovavo proprio lì a provare gli abiti di un mio personaggio mentre la radio trasmetteva in diretta le elezioni del nuovo papa. Il volume era altissimo perché la sarta era un po' sorda. Poi ecco che lo speaker annuncia solennemente abbiamo il nuovo pontefice, Carol Wotiwa. Wotiwa, gridò la sarta. Che nome strano è, signora? Replicai. Oddio, che disastro! È un nome africano! Hanno eletto un papa negro! È la fine del mondo! E la sarta cominciò ad agitarsi. Credo si riferisse alla famosa profezia di Nostradamus. Comunque fosse, si precipitò in corridoio a proclamare come un'invasata che era arrivata la fine del mondo perché avevamo un papa di colore, anzi un papa negro. Erano anni in cui non esisteva il politically correct. Tra i camerini e le sale di prova si diffuse il timore che davvero quel Wotiwa potesse essere l'anticristo. Qualcuno più spregiudicato non esitò a sparare commenti razzisti. Finalmente arrivò un assistente regista a sedare quella baraonda di tecnici, cameraman, uscieri, sarti e addetti vari. Fermatevi! Il papa non è africano, è polacco! Urlò. L'ho visto adesso in televisione. È più bianco di una mozzarella. Molti furono sollevati, altri abbozzarono una smorfia di delusione. Nostradamus era il beniamino dei fanatici di esoterismo. A me piaceva l'idea di un papa straniero. Mi chiedevo come avrebbe parlato, con quale accento e come avrebbe cercato di avvicinarsi agli italiani e alla loro cultura. Ma evidentemente erano pensieri troppo progressisti per quei tempi.